Rieccoci qui, bentornati nella seconda parte di prima mattina. Lo abbiamo anticipato già all'inizio, oggi parleremo principalmente con due ospiti di Atletica Leggera, sono insomma ospiti di gran peso per quanto riguarda lo sport. Comincio innanzitutto con la medaglia di bronzo nel salto tripo femminile campionati italiani assoluti che si sono disputati a Pescara, la teramana Giada Bilanzola. Benvenuta Giada. Grazie Lorenzo, buongiorno. E poi abbiamo il presidente dell'Atletica Gran Sasso Teramo, di cui Giada fa parte, Maurizio Salvi. Buongiorno. Bentornato presidente. Allora, prima di fare una panoramica per quanto riguarda la stagione dell'Atletica Gran Sasso e poi soprattutto lo splendido finale di stagione per quanto riguarda te Giada, io prego la regia di mandare in onda i risultati e le grafiche per quanto riguarda il campionato di Serie D di calcio. La prima giornata che si è disputata, l'abbiamo visto anche prima nei titoli dei quotidiani. Il Girone F, Avezzano Cesena 1-2, Castelfidardo e Senenotaresco 3-1 per gli ospiti. Poi il Forlì che vince 3-0 contro Lisernia. Francavilla Pineto 3-1, Matelica Vastese 4-2, la vittoria fuori casa del Real Giulianova contro l'Olimpia Agnonese per 1-0. Il pareggio tra Recanatese-Jesina 1-1 e San Maurese-Montegiorgio, anche questa finita 1-1. La Sangiustese che vince 4-2 con il Campobasso, il Sant'Arcangelo che batte la Savignanese per 2-1. Era appunto la prima giornata, quindi vediamo la classifica. Classifica ovviamente facile, con tutte le squadre che hanno vinto a 3 punti. Poi appunto seguono quelle a 1 e ovviamente quelle che hanno perso a 0. Ma ci sono anche delle penalizzazioni. Il Campobasso lo vedete a meno 2 e l'Avezzano a meno 3. Abbiamo detto della vittoria del Giulianova sul campo dell'Olimpia Agnonese. Quindi andiamo a vedere proprio il servizio dei giallorossi. Poi torneremo in studio con i nostri ospiti. Esordio non troppo felice per l'Olimpia Agnonese che per la prima di campionato ospita il Giulianova. La partita finisce 1-0 per gli abruzzesi che sfruttano l'unico episodio di tutto il match per incassare i primi 3 punti. Ma andiamo alla cronaca che per Mr. Mecomonaco comincia con due tegole. La prima con l'infortunio di Falco che si stira in fase di riscaldamento pre-partita. La seconda con Cassese che è costretto ad abbandonare il campo ad appena 7 minuti di gioco, sempre per infortunio. Due episodi incresciosi ma non saranno quelli a determinare l'andamento della partita. Un primo tempo piuttosto soporifero in cui si fa fatica a costruire gioco e in cui manca totalmente lo spettacolo calcistico. Tanto è che registriamo solo un paio di azioni un po' più interessanti. La prima al sedicesimo con Di Paolo e il suo insidioso cross che Kuzmanovic blocca prontamente. Al ventesimo la buona occasione per assaporare qualche brivido la regala alla Min che sul calcio di punizione battuto da Carnevale di testa va un filo alto sulla traversa. Poi più nulla fino al momento degli spogliatoi che i giocatori guadagnano a reti inviolate. Con le immagini di Antonio Masi eccoci nella ripresa. L'Agnone sembra scendere in campo con un altro piglio e in effetti gioca la prima mezz'ora mettendo in difficoltà gli avversari. Al settimo minuto l'occasione di marca Granata arriva su un calcio di punizione battuto da Carnevale ma Salifu manca l'impatto con il pallone per un soffio. All'undicesimo è sempre Carnevale protagonista con un tiro che costringe Shiba a tuffarsi. Al sedicesimo è brivido vero c'è la Mini in area di testa per la forgia che illude con una bella rovesciata che però va fuori di pochissimo. Al trentatresimo succede ciò che non ci si aspetta sugli sviluppi di un calcio di punizione. Arriva un pallone che vaga in area Granata così Di Paolo è pronto a infilare la rete praticamente a porta vuota. Ed è 1-0 per il Giulianova. Al trentottesimo Pagano chiede un rigore per un intervento scomposto da parte di Foschi ma per il direttore di gara Cardellas della sezione di Torre del Greco è tutto regolare. La partita si chiude con un tiro insidioso di Tozzi Borsoi che sfiora la traversa. Si conclude così un match in cui il Giulianova ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e con l'Olimpia agnonese che deve fare conti con qualche tassello ancora mancante negli ultimi metri offensivi. E questo era il servizio appunto dedicato alla vittoria del Giulianova contro l'Olimpia agnonese. Allora adesso invece entriamo nel vivo con i nostri ospiti parliamo di atletica leggera. Io comincerei in modo cavalleresco con Giada Bilanzola e soprattutto comincerei da questa medaglia che stai stringendo adesso tra le tue mani insomma una medaglia di bronzo. Eccola qui che è tanta roba Giada cioè nel senso medaglia di bronzo e campionati italiani assoluti. Sei la terza praticamente in Italia un finale di stagione davvero spettacolare. Poi parleremo anche di un altro risultato che hai fatto ieri però cominciamo da questo che davvero è molto molto importante per te. Sì diciamo che inizia ad essere un risultato importante perché è una medaglia importante iniziare ad avere un bel peso a livello italiano non più a livello giovanile. E quindi sì sono molto felice di avere questa medaglia tra le mani adesso. Tra l'altro è stata una gara tecnicamente molto molto tosta perché comunque avevi avversari molto forti. C'era la Cestonaro anche la seconda classificata che hanno fatto ottime misure. Tra l'altro tu eri andata anche avanti, eri seconda ad un salto praticamente al penultimo salto che è stato poi quello del 13 metri e 10 del tuo personale. Quindi anche qui maggior soddisfazione perché anche gli avversari erano veramente difficili quindi ancora di più da prestigio a questa medaglia. Sì esatto ci erano avversari molto più forti di me e comunque anche molto più esperte. Quindi sapevo anche se ero momentaneamente seconda sapevo che poteva arrivare la sorpresa da un momento all'altro. E infatti fino al quinto salto non ho mai mollato perché sapevo che un 12-89 anche se sarebbe bastato non pensavo potesse essere sufficiente per una medaglia. Poi quando è arrivato il 13-10 dopo il risultato insomma al sesto salto la mia avversaria che aveva fatto 13-21 non ho saputo rispondere come al salto precedente. Quando hai visto quella cifra appunto vedi quei due numeri 13-10 prima sensazione che hai avuto in testa? Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sono due anni che rincorro questa misura quindi è stata proprio una misura liberatoria quasi. E poi farlo appunto nel finale una sorta di a livello, poi uso una metafora musicale, un crescendo rossignano, cioè hai fatto proprio il gran finale proprio nel momento più importante della stagione. Sì esatto, la stagione non era iniziata nel migliore dei modi perché ha avuto dei problemi fisici e quindi è stata veramente la ciliegina sulla cotorta per concludere la stagione al meglio. Maurizio, il risultato di Giada che va a coronare appunto una stagione molto positiva per quanto riguarda l'Atletica Gran Sasso, nel complesso ovviamente qui tracciamo una sorta di bilancio perché ci sono stati anche altri risultati di altri atleti, quindi ti chiedo appunto un quadro generale della situazione di questa annata che va a chiudersi. Un'annata sicuramente la migliore da quando esiste l'Atletica Gran Sasso, quindi da oltre dieci anni, un'annata che ci ha visto protagonisti fin dall'inizio della stagione, fin da febbraio, con due titoli italiani indoor, ricordiamo tre titoli anzi, Gaia Sabatini negli 800 e nei 1500 metri e Lorenzo Mantenuto nel salto in lungo. Questi atleti si sono ripetuti all'aperto dove Lorenzo ha vinto di nuovo il titolo italiano e Gaia ha doppiato ancora una volta queste due gare e poi c'è stata anche una convocazione nazionale per Lorenzo Mantenuto, una doppia convocazione per Gaia Sabatini che ha partecipato ai campionati mondiali nel 1500 dove ha veramente sfiorato la partecipazione in finale. C'è stata un'altra convocazione ai campionati europei per una nostra atleta lanciatrice nel lancio del peso, agli europei della categoria lievi. E poi questo finale di stagione straordinario anche con il risultato di Giada che ci ha sorpreso positivamente ma fino a un certo punto perché sappiamo delle sue straordinarie qualità. Quindi una stagione che tra l'altro non solo a livello individuale ma anche a livello di squadra ci ha visti protagonista a giugno con la squadra femminile che praticamente può ambire nella prossima stagione a partecipare ad una finale argento. Quindi diciamo così sarebbe una finale prestigiosa e per la prima volta la nostra squadra ha la possibilità per la prima volta di raggiungere questo risultato. E anche con la squadra maschile abbiamo avuto una promozione quindi anche lì possiamo guadagnare un girone di partecipazione. Grande soddisfazione insomma e comunque noi già da oggi la stagione sta finendo praticamente di fatto è finita ci sono ancora piccole gare per i giovani però già ci stiamo organizzando e stiamo programmando per il futuro per poter fare un'altra stagione ancora di grandi successi. L'altro stiamo vedendo appunto l'abbiamo visto poco fa le immagini per quanto riguarda Gaia Sabatini che è un'altra delle atlete di punta della società Biancorossa e Atletica Gran Sasso. Ti vorrei anche chiedere un flash appunto su Gaia che ha fatto un'ottima stagione l'hai detto tu poco fa poi è stata sfortunata per quanto riguarda i campionati italiani assoluti a Pescara però ecco nel complesso si è dimostrata ancora una volta una delle punte di diamante della tua società dell'Atletica Gran Sasso. Sicuramente è un'atleta che oltre ai titoli si è anche migliorata dal punto di vista cronometrico in quanto ha fatto un grandissimo tempo sugli 800 dove ha un tempo di 2 minuti e 4 secondi e secondo me può anche scendere. Sui 1500 è un altrettanto ottimo tempo con 4 minuti e 19 secondi quindi si è migliorato sotto tutti i punti di vista. Peccato ai campionati italiani di Pescara dove ha avuto un piccolo risentimento muscolare. Questo le ha consentito di fare la finale degli 800 e ha fatto bene a non forzare perché probabilmente poteva essere poi un infortunio serio e quindi questo piccolo problema le ha fatto di fatto la tolta dalla gara dei 1500 metri dove sicuramente aveva delle ottime chance. Potevamo in quel caso avere l'onore insomma anche la fortuna di avere due medaglie non solo quella di Giada ma anche quella di Gaia. Comunque per lei una grandissima stagione avrà sicuramente tempo di rifarsi c'è stato solo questo piccolo incidente di percorso per il finale della stagione ma so che già si sta rimettendo sotto perché ha già degli appuntamenti anche lei per la corsa campestre che inizierà già a dicembre e per le indoor ha già dei grandi appuntamenti e dei grandi impegni che la faranno sicuramente sognare. E conoscendola forse tornerà ancora più arrabbiata quindi. Sì ma infatti questi sono episodi tra l'altro. Che poi ci stanno. Ci stanno e poi ecco fare un campione italiano tra l'altro in casa qui in Abruzzo lei ci teneva particolarmente insomma ma tutti gli atleti abruzzesi anche come Giada ci tenevano in modo particolare quindi sicuramente è dispiaciuta ma sono convinto come dicevi tu poco fa che da questi episodi sicuramente poi l'atleta impara anche tanto e diciamo si forgia ancora di più. Servono anche queste esperienze. Queste esperienze non positive insomma per crescere sotto tutti i punti di vista. Tornando invece a te Giada alla gara che hai fatto nel salto triplo qua partiamo più da una mia considerazione perché ero lì presente a vederti quindi ho visto appunto veramente in diretta da vicino il tuo salto. Però la cosa che mi ha poi incuriosito cioè non solo ovviamente il salto in sé che appunto anche bello esteticamente da vedere tutto la tua grande soddisfazione eccetera il fatto che in gara non so se è una prassi perché poi ognuno ha un suo tipo di concentrazione eccetera però ho visto che praticamente ti isoli quasi una sorta di come dire una sorta di trans nel senso che le altre atlete erano comunque tutte insieme sedute vicino eccetera invece a te ti ho visto sempre in disparte molto tranquilla però sempre concentrata su te stessa quindi ti chiedo anche questa è una mia curiosità parte dalla mia osservazione anche se è un tuo modo pure di come dire di concentrarti anche appunto quello di isolarti pensi solo a te stessa quello che stai facendo se rivedi anche la gara ti ripassi diciamo anche la rincorsa è una mia curiosità perché ho notato questa cosa non solo appunto la parte del salto ma la tua preparazione appunto mentale prima del salto. No diciamo la gara sì la cerco cerco di mantenermi abbastanza calma e concentrata ma non troppo perché anche in allenamento abbiamo notato io il prof e Marco che vado nel pallone se inizio a pensare troppo perché inizio a pretendere un po' troppo da me stessa e quindi poi inizio a sbagliare. Ti crei troppa pressione insomma. Esatto esatto quindi sì cerco di isolarmi per non avere troppe distrazioni però quando posso ad esempio tra i tre salti di qualificazione e di finale lì le battutine con le amiche ci sono perché prima di tutto sono amiche e poi avversarie però sì cerco sempre di rimanere abbastanza concentrata sulla gara e su quello che vorrei fare e quello che devo fare. Cosa provi quando salti? Perché di solito allora prendo la mia esperienza personale perché al di fuori appunto di questo lavoro del giornalista suono quindi per quanto riguarda la musica spesso uno dice che cosa provi quando suoni? Io di solito non penso a nulla in quel momento e così anche nel tuo caso cioè nel senso che cosa provi quando proprio stai per saltare cioè la mente si spegne nel senso sei focalizzata su una cosa oppure ecco le tue sensazioni in quel momento incuriosisco. Sì no beh appunto come ti dicevo prima cerco di non pensare troppo la gara quindi in quel momento penso a non pensare troppo. Ok esatto quindi è molto affine questa cosa nel senso c'è un'affinità di non pensiero paradossalmente durante il salto. Vabbè sei concentrata a fare la tua gara quindi non hai modo di pensare a tantissime altre cose quindi è anche un modo per evadere un po' da quello che ci circonda no magari problemini sciocchi o quelli un po' più grandi ecco. E tra l'altro la soddisfazione ancora più grande l'unica medaglia praticamente è abruzzese per quanto riguarda i campionati italiani. Se non consideriamo sì vabbè c'è anche la medaglia di Alessia Beneduce che per quanto riguarda appunto la provincia di Teramo. Sì 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 no purtroppo per Gaia mi è dispiaciuto molto per il problema che ha avuto sarebbe stata anche lei da medaglia sicuramente però sì l'unica medaglia mini da Ambruzzo. Tanto qui vediamo appunto la premiazione e tra l'altro davvero una grandissima una grandissima emozione. Maurizio tornando al discorso generale appunto qui l'abbiamo affrontato anche più volte cioè ribadiamo che la società l'Atletica Gran Sasso deve competere anche appunto anche per quanto riguarda i campionati italiani con società blasonate. Io parlo appunto di gruppi sportivi militari non solo ci sono appunto altre società quindi sono risultati che poi andando a vedere non sono così scontati cioè nel senso il fatto che i nostri atleti appunto prendano medagli eccetera contro società molto più rinomate è doppio cioè nel senso da un valore ancora ancora maggiore. Ma è un appunto da un valore maggiore noi nel nostro piccolo diamo sicuramente un grandissimo contributo volevo ricordare tra l'altro che quest'anno abbiamo avuto otto atleti che hanno partecipato a questi campionati italiani assoluti oltre a Giada e a Gaia Sabatini che era iscritta su due gare avevamo la staffetta 4% femminile poi avevamo Farroni che ha fatto i 100 e i 200 metri e Ludovica Montanaro che ha fatto il peso e il disco e Lorenzo Mantenuto che ha fatto il salto in lungo anche lui sfortunatissimo che per un centimetro proprio per un'inezia non è entrato in finale. E poi è stata pure una progressione da cui si è visto cioè nel senso tutti quelli davanti a lui erano proprio avanti di un centimetro due tre via difetti. Quindi anche lui sfortunato tra l'altro un pomeriggio un po' particolare il primo giorno di gare il venerdì era anche un po' piovoso quindi ha caratterizzato sicuramente questa gara. Quindi noi come squadra ai campioni italiani assoluti chiaramente si può partecipare con delle misure stabilite con dei tempi stabiliti con dei minimi quindi non è una partecipazione di massa per cui è già un grande onore portare tutti questi atleti ad una finale. Competiamo con squadre ma anche con città che sono più grandi di noi con realtà che sono molto diverse però insomma questo ci stimola e diciamo nessun problema ma ci onora perché chiaramente otteniamo dei risultati. Non ci sono tante squadre che hanno vinto i campioni italiani a livello individuale come noi quest'anno tutte le medaglie che abbiamo vinto noi. Chiaramente non tutti gli anni si possono raggiungere questi risultati lo sappiamo benissimo però noi abbiamo anche un bel ricambio con i giovani abbiamo la nostra cantera dove ci sono dei giovani validi che stanno crescendo quindi innanzitutto ci auguriamo che possano rimanere ancora a lungo atlete del calibro di Giada, di Gaia ed altri però insomma abbiamo anche qui un bel ricambio perché la nostra attività principale l'abbiamo sempre detto e lo diremo sempre sarà quello del settore giovanile quindi abbiamo dei piccoli che da cinque anni a partire da cinque anni possono frequentare il campo di atletica leggera anzi approfitto dell'ospitalità per dire che appunto è già da una settimana che sono iniziati i nostri corsi di atletica leggera insomma scuola di movimento per l'atletica leggera il campo scuola è sempre pieno di bimbi diciamo di bambini e ragazzi quindi per coloro che volessero provare insomma li invitiamo a venire al campo scuola dove sicuramente potranno trovare un buon gruppo di tecnici e un bel ambiente per questi ragazzi poi parleremo anche di questo io tornerei intanto stiamo venendo qui una bellissima immagine slow motion per quanto riguarda gli allenamenti quotidiani che fa Giada tra l'altro Giada tu hai ottenuto questa medaglia appunto di bronzo 13 e 10 nel triplo poi non contenta ieri in un meeting a Rieti hai fatto il tuo personale per quanto riguarda il lungo perché tu fai anche ovviamente anche il salto in lungo 5 e 92 quindi insomma due personali nel giro di una settimana nel finale di stagione io penso che neanche una delle migliori sceneggiature di un film poteva essere meglio no abbiamo approfittato della forma perché comunque abbiamo visto che dopo il personale del triplo insomma stavo bene quindi mi sembrava giusto completare la stagione provando a fare il personale anche nel lungo ed è arrivato quindi è andato bene così tra l'altro ecco l'atletica leggera lo sappiamo benissimo ce lo siamo anche detti a microfoni spenti non è lo sport più seguito in Italia non è lo sport più praticato quello che mediaticamente attira a parte ovviamente i mondiali e le competizioni olimpiche quindi anche questo c'è tu sei classe 95 quindi sei giovanissimo anche qui la soddisfazione poi di fare anche una pratica che poi odio questo aggettivo definita minore che poi in realtà non lo è perché l'atletica è la regina di tutti gli sport però veramente da una soddisfazione maggiore c'è anche il fatto di di eccellere in una diciamo in una disciplina che non è poi così ecco non è poi così scontata perché come dire il calcio lo fanno tutti gli sport di squadra bene o male sono più praticati invece l'atletica poi richiede molto sacrificio è un mondo che in pochi conoscono in maniera proprio profonda quindi c'è tantissimo lavoro dietro prima l'abbiamo visto con gli allenamenti quindi sacrifici sono tanti si dici bene infatti l'atleta diciamo non ha un periodo di di grande stop infatti è continuo cioè vi allenate praticamente tutto l'anno infatti adesso affronterò due settimane di riposo tra virgolette però comunque sia andrò ad allenarmi e allenare quei quelle piccole cose che magari durante l'anno non vado ad allenare troppo e quindi hai detto bene infatti tu dicendo non è molto praticato appunto secondo me per questo motivo perché magari gli sport di squadra d'estate sono fermi quindi ti permettono di andare al mare di fare tutto quello di divertirti insomma d'estate hai delle pause lunghe praticamente esatto mentre in atletica queste pause lunghe non ci sono quindi disciplina che richiede non sacrificio di più sì e tra l'altro ecco un'altra curiosità tra le due discipline che tu pratichi abbiamo detto salto triplo e lungo tra le due c'è una preferenza lieve cioè nel senso ti ritrovi di più in una meglio in una delle due oppure paritario cioè dici preferisco entrambe a uguale livello no preferisco di più il triplo perché il salto in lungo è un po' più ce lo vedo un po' più banale anche se il gesto tecnico non è poi certo non è difficilissimo però ecco non è così complesso come il triplo lop step jump insomma ha il tuo fascino esatto tipo come il balser insomma un due tre quindi esattamente poi si salta e a proposito richiede soprattutto molto ritmo mentale come disciplina perché anche lì i passi c'è veramente spostare di un passo cambia il mondo praticamente in questa disciplina si considerando che la rincorsa viene presa con una fettuccia metrica quindi anche i centimetri devono essere proprio quelli e il ritmo è fondamentale avere anche solo l'idea di una canzone in testa e ripetersela poco prima della del salto insomma della gara anche dell'allenamento soprattutto è fondamentale lo stesso conteggio dei passi a volte abbiamo visto i grandi atleti appunto nelle competizioni olimpiche o nei mondiali anche proprio fare pure un gesto di quasi che si ripetono di mimo esatto con il salto proprio a livello di ritmo che si che se lo ripassano a livello mentale quindi c'è questa anche questa affinità quasi musicale in questa disciplina sì 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 decisamente molto molto interessante ovviamente questa questa analisi Maurizio io vorrei tornare al discorso della cantera perché lo hai detto poco fa hai fatto una panoramica l'atletica Gran Sasso diciamo il fiore all'occhiello della tua società è proprio questo c'è l'attività del settore giovanile che tra l'altro per essere una disciplina lo dicevamo prima congiata l'atletica non è proprio la prima scelta che un bambino una bambina può fare nel nostro paese in realtà l'atletica Gran Sasso poi ha un vivaio che a livello di numeri adesso me lo direi anche tu insomma i numeri sono tanti e competono anche in maniera positiva se non a volte superano quelli degli sport di squadra che sono più praticati sì noi abbiamo oramai da qualche anno circa 250 piccoli atleti che quotidianamente vengono al campo scuola quindi anche questi numeri sono sono importanti ecco chiaramente ci siamo arrivati gradualmente perché non è che quando quando siamo partiti il primo anno all'inizio ne avevamo 50 60 quindi voglio dire siamo cresciuti gradualmente però negli ultimi anni questi sono sono i numeri siamo bene organizzati questa scuola di atletica scuola di movimento è diretta al professor Claudio Mazzauf ma insieme a tanti altri tecnici collaboriamo col professor Piero Natale con Carlo Labrozzi insomma tantissimi tecnici abbiamo anche i giovani come Giada che poi ci danno una mano anche loro a insegnare ai più piccoli anche questo è un aspetto più che positivo il fatto che non solo si formano atleti poi si formano anche i tecnici cioè qualche atleta diventa anche tecnico sì questo è importante anche per il ricambio perché abbiamo la fortuna di avere credo 6-7 atleti che poi stanno continuando con l'attività sportiva ma anche con gli studi con scienze motorie quindi per avere anche un futuro lavorativo per cui anche questo è molto importante quindi l'aspetto che riguarda il settore giovanile io credo che sia vincente per tutti gli sport oggi vediamo per esempio il calcio italiano se c'è questa crisi dove non escono talenti io sono convinto che ci sono e forse perché magari anche le squadre professionistiche più che perdere tempo quando parlo di squadre professionistiche mi riferisco anche a squadre di serie C certo quindi più che perdere tempo a coltivare i propri vivai invece preferiscono prendere calciatori quando va bene da altre città e quando altrimenti anche da fuori degli stranieri quindi è fondamentale avere il settore giovanile importante avere un settore giovanile curato, qualificato e preparato credo che sia importante per qualunque società ma poi anche per noi come dirigenti della società atletica Gran Sasso è uno stimolo altrimenti insomma voglio dire non per essere campanilisti però insomma vedere degli atleti che crescono con i nostri colori con la nostra maglietta e poi raggiungono risultati è bellissimo chiaramente l'atletica leggera è uno sport anche non solo per chi può prendere le medaglie ma insomma è uno sport noi il nostro slogan è fai atletica leggera e non farai panchina nel senso che sono tutti titolari tutti quanti possono fare la propria gara si possono misurare con le varie specialità e quindi indipendentemente poi dal talento oppure dalla prestazione tecnica ma comunque è uno sport che è molto formativo quindi questo è il nostro spirito principale che ci spinge ancora ad andare avanti e a proseguire su questa strada è una linea poi societaria quasi come dire quando siete partiti lo hai detto tu poco fa non c'erano ovviamente tutti questi iscritti sono andati crescendo nel corso degli anni e anche come visione il fatto che poi si crescano talenti qualcuno diventa anche tecnico poi chi appunto diventa atleta di punta in questo caso abbiamo visto degli esempi io direi quasi una mentalità Maurizio tipo europea cioè nel senso veramente una visione globale del tutto che non tutti fanno e ti dico anche insomma l'avevi previsto? no noi non l'avevamo previsto voglio aggiungere è stata una scommessa voglio aggiungere che questa scommessa è partita anche dal gruppo podistico Amatori Teramo noi organizziamo la Maratonina Pretuziana che è un evento bellissimo straordinario soprattutto per i bambini abbiamo circa mille bambini riusciamo a portare mille bambini il primo maggio ogni anno da tanti anni in piazza e da questa grande partecipazione di bambini anche da questo è partito attraverso il gruppo podistico Teramo perché l'atletica Gran Sassa è nata da lì con Massimo Pompei con Domenico Narcisi quindi è stata una scommessa di dire se tutti questi bambini siamo bravi a portarli in piazza per un giorno una parte di loro sicuramente riusciremo anche a portarli al campo scuola poi ci sono tanti sport Teramo è una città che per eccellenza dove ci sono tantissime società ma di tutti gli sport quindi infatti abbiamo spesso problemi per gli impianti sportivi forse perché non perché non ce ne sono tanti di impianti ma perché le società sono sono tante rispetto agli impianti per essere piccole esatto che ci sono quindi questa è stata un po' la nostra è stata e sarà in futuro anche la nostra filosofia Siamo alle battute finali Giada lo hai detto anche tu adesso meritato riposo però ecco prossimi obiettivi per quanto riguarda il futuro Allora obiettivi di misura per stazioni non ne ho tante cioè vabbè a parte quello di raggiungere anche i 6 metri di abbattere anche il muro dei 6 metri diciamo nell'immediato quello che viene viene tra l'altro me l'hai detto diciamo a microfoni spenti questo quasi 6 metri sarà uno stimolo maggiore esattamente il 5,92 darà ancora più esattamente gli obiettivi di quest'anno erano i 13 metri e 6 metri uno è stato raggiunto quindi l'altro lo rimandiamo all'anno prossimo bocca al lupo per tutto ovviamente crepi il lupo Maurizio un flash rapido anche qui adesso appunto ci sarà questa pausa poi si guarda già al prossimo anno praticamente sì di fatto abbiamo chiuso la stagione stiamo già stilando i programmi per il prossimo anno quindi siamo ripartiti alla grande già nella prima settimana con con i nostri allenamenti con i bimbi e i ragazzi al campo scuola e quindi adesso faremo anche delle riunioni tecniche insomma per vedere quello che che è andato bene quello che è andato meno bene anche perché noi ci a noi ci piace anche analizzare un po' tutti gli aspetti e cercare di migliorare quindi ci auguriamo non sarà facile ma ci auguriamo mi auguro di cuore di poter non dico superare ma di potermi riavvicinare ai grandi risultati che l'Atletica Gran Sasso è riuscita a fare in questa stagione in bocca al lupo per tutto crepi allora siamo arrivati proprio alle battute finali io ringrazio ancora i miei ospiti Maurizio Salvi presidente dell'Atletica Gran Sasso Teramo grazie a voi per l'ospitalità e Giada Bilanzola medaglia di bronzo proprio diciamolo in modo specifico nel salto triple campionati italiani assoluti grazie a voi bene di prima mattina finisce qui io ridò l'appuntamento come sempre domattina alle ore 7 grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti grazie a tutti